Buongiorno, anche oggi è una splendida giornata C'è il sole, neanche una nuvola Wow, Bobo? Ciao, ciao amore mio, buongiorno, buongiorno, buongiorno gata Buongiorno La pappa, andiamo a far la pappa, andiamo a far la pappa Vieni Sì, sì, lo so che hai tanta fame, sì, sì Eccomi qua Un po' di crocchette agata stellina che sono entrambi in dieta in realtà Che tra tutti i miei viaggi quando io sono via gli danno troppo da mangiare e sono ingrassati Ok, buon appetito Per colazione mangerò qualche fetta biscottata o queste rotonde olandesi Qui non esistono fette biscottate quadrate come da noi e sottili Ci sono solo queste Ehm, appunto, rotonde e anche molto spesse Ehm, e le farò con un po' di marmellata alla fragola Ho sia questa della Bon Mamà che sono buonissime Sono veramente buone ma molto dolce E poi avevo provato a prendere anche questa della Hero Che è senza zucchero Però ragazzi, cioè non ha proprio sapore È troppo troppo light Cioè, non so di niente Mi dispiace di non ma so di niente Quindi penso che mangerò questa qui E poi, naturalmente, come ogni mattina Il mio frappuccino di Starbucks Non ho il white chocolate mocha Quindi, frappuccino Toglierle dalla confezione è semplice Perché per praticità Gli hanno fatto un buco da un lato E quindi basta inserire il dito Per poi, appunto, con una mano Non ce la faccio farvelo vedere Ma per poi tirare fuori la fetta biscottata Due basteranno Vedete che sono molto molto spesse In confronto alle nostre Questa è anche un po' rotta ma vabbè Mentre preparo la colazione Ho un sacco sete Quindi sto bevendo tantissima tantissima acqua Non la tengo mai nel frigorifero Perché la mattina, appunto, ho tanta sete Ne bevo tantissima Non voglio che sia super, super, super fredda Perché mi farebbe male allo stomaco Quindi lascio la bottiglietta fuori Ma è super importante bere acqua a stomaco vuoto Appena svegli Quindi cerco di farlo ogni mattina E mi riesce semplice perché, appunto, ho sete Di solito lo bevo dalla sua bottiglietta Il frappuccino Però oggi vado a versarlo nella tazza Così posso pucciare le mie fette biscottate E visto che anche oggi fa caldo C'è un tempo bellissimo Ho deciso di fare colazione in terrazzo Così Ammiro, diciamo, un po' Il cielo azzurro Anche perché tra un po' arriverà il sole Qui nel terrazzo E quindi comincerà a battere forte Quindi devo fare colazione prima che arrivi il sole Tra l'altro Come potete vedere Ho cambiato la pavimentazione del terrazzo Ma vi farò un home tour aggiornato Perché ho cambiato diverse cosine A casa in questi giorni Quindi vi farò, appunto, il video aggiornato Ma adesso Buon appetit a me Che sono ancora con la mia vestaglietta Per usciosa rosa Buon appetit Frappuccino Starbucks E due fette biscottate Con marmellata di fragole Non ho tantissima fame la mattina Ma come sapete Cerco di sforzarmi A mangiare qualcosa Specialmente se poi devo uscire E non voglio uscire a stomaco vuoto, ovviamente Quindi buon appetit Momento Make up Ho già fatto la skin care Appena uscita dalla doccia Adesso andiamo a fare il trucco assieme Prima cosa Balsamo labbra Sto usando questo di Chanel Poi Allora Come base Per il make up Volevo inizialmente utilizzare Questo primer di Gucci Che è fantastico Però Visto che Sto per andare a pranzo Con un'amica Andiamo a fare una passeggiata Nel parco Perché ci sono Almeno speriamo Ci sono i Sakura Trees Gli alberi I ciliegi Cherry Blossom Tree Giapponesi Qui in un parco E quindi andiamo Ci sono in diversi parchi In realtà però noi andiamo In quello più vicino a noi E facciamo una passeggiata Pranziamo fuori Quindi so che Starò Abbastanza tempo Sotto il sole Quindi devo assolutamente Indossare la protezione 50 Anche perché Sto applicando Il retinolo La sera Quindi come sapete Se utilizziamo il retinolo Dobbiamo sempre 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 Usare la protezione 50 E questo è un primer Appunto con SPF 50 Di Hello Sunday Adesso Fondotinta Come al solito Ho i miei Nudissimo Di Diego Dalla Palma Uno è Colorazione 242N L'altro è Colorazione 243C Che è un pochino Più scuro E vado a Mischiarli Per trovare La tonalità Adatta Per me Che come sapete Cambia Costantemente Perché applico L'auto Abbronzante Quindi Tre Pompette Di quello più scuro E poi un pelino Di quello più chiaro Sono molto curiosa Di vedere Questi Sakura Trees Ragazzi Questi alberi In fiore Giapponesi Ogni anno Li vedo E non sono mai Andata a cercarli Appunto In un parco Quindi Finalmente Questa missione Sarà completata Oggi Speriamo che siano In fiore Perché io Li ho visti Già in fiore Però Non sono andata Proprio nel parco Cioè li ho visti In giro Per la città Ma spero che Siano tutti Tutti in fiore Anche al Wester Park Che è il parco Dove andiamo noi Correttore Applico Questo di It Cosmetics È il Bye Bye Under Eye Questo è un correttore Fantastico Super super coprente Ne basta Talmente poco Che vi dura Una vita Un millimetro Di prodotto Vi copre Tutto Il contorno occhi Praticamente Tra l'altro Ragazzi Vi avevo filmato Quelche giorno fa Il make up tutorial Con i prodotti Gucci Che mi avevate richiesto L'ho filmato Sia sulla videocamera Che sul cellulare Per poi tramontarlo In un reel E in un tiktok E purtroppo Il file Della videocamera Cioè Per il video Per youtube Purtroppo È andato perso Perché la mia sony Ha deciso appunto Di smettere Di funzionare Così Da un momento All'altro E quando Cioè Dopo che ho finito Di registrare Il Appunto Il video Gucci Mi sono resa conto Nel montaggio Io vado lì Per montarlo Tutta bella Tranquilla Anche molto felice Perché il trucco Mi era piaciuto molto E Mi rendo conto Che c'era questo fruscio In sottofondo Talmente forte Che già negli ultimi video Si sentiva Però in quel video Era talmente forte Da coprire Praticamente la mia voce Veramente Terribile Quindi Mi sono resa conto Di aver filmato Per un'ora e venti Assolutamente Per niente Ma almeno Potrò Farvi vedere Il tutorial Dal cellulare Quindi su Instagram E su TikTok Lo caricherò Nei prossimi giorni Però purtroppo Appunto Su Youtube Non ci sarà Perché ho avuto Questa spiacevolissima Sorpresa Per quanto riguarda La videocamera Che appunto Adesso È in pensione Adesso Cipria Uso sempre Questa Di By Terry Mi ci sto trovando Benissimo E vedo su TikTok Un sacco di ragazze Che non applicano La cipria Cioè si truccano E non applicano La cipria E io mi chiedo Come fate Cioè nel senso Probabilmente Non avete la pelle Non avete la pelle mista Non avete la pelle grassa E ci sta Perché Se non hai la pelle mista O grassa Bene o male Non ti diventa Lucida Nel corso Della giornata Quindi ci sta Però Come fa il make up Il fondotinta A durarvi Per tutto il giorno Se non lo fissate Almeno con un po' Di cipria Secondo me È sempre meglio Andare Appunto A fissare Il make up Anche se avete La pelle secca Un velo di cipria Magari Una cipria Che non vada A dopacizzare Troppo la pelle Ma che sia Idratante Perché esistono Anche ciprie Idratanti Ce n'è una Di Givenchy Ad esempio Che io Con la mia pelle mista Non posso usare Ma per le pelli secche È fantastica Perché altrimenti Se Non applicate La cipria Comunque Inevitabilmente Il fondotinta Dura di meno Quindi se Dovete stare fuori casa Poco Secondo me Può essere fattibile Appunto Uscire senza cipria Senza fissare Il fondotinta Il correttore Altrimenti Io sconsiglierei Perché poi Inevitabile Che tipo Nelle rughette D'espressione Oppure Sotto l'occhio Nelle pieghette Vadano a finire Il correttore fondotinta Perché se non ci mettiamo Una polvere su Che vada Appunto A fissarli A bloccarli Sulla pelle Inevitabilmente Poi Il trucco Si rovina Molto prima Blush Vado ad applicare Questo Di Valentino È il Dual Use Blush And Shadow Ma noi lo utilizziamo Soltanto Come blush È un bellissimo colore I trucchi Valentino Sono molto belli È di super qualità Peccato Solo che il packaging Lasci tantissimo A desiderare Cioè ragazzi Non è in metallo Ne avevamo parlato Ma sono sempre sconcertata Su ciò Anche per il prezzo Che hanno questi prodotti A differenza di Gucci Per esempio Il make up di Gucci È tutto In metallo Le confezioni Si vede Che sono Confezioni costose Mentre queste Di Valentino Sembrano Tipo Non lo so I trucchi Per le bambine Perché è tutto Cioè può sembrare Metallo Ma in realtà È tutto Fatto di una plastica Insomma Neanche di alta qualità Perché non sembra Neanche lontanamente Metallo Quindi sì Molto anche leggero Cioè non sembrano Compact Di lusso Quindi mi ha stupito un po' Però in realtà I prodotti sono molto Molto validi Secondo me Valentino Doveva Spendere un pochino Di più Anche sul packaging Perché molto spesso È vero Che ci sono prodotti Che sono ottimi E non hanno Un buon packaging Però se Appunto Andiamo ad acquistare Un brand di lusso Oltre che La qualità Molto alta Ci aspettiamo Anche Un packaging Di un certo tipo Perché ovviamente Si paga il prodotto Ma poi si paga Anche il packaging Quindi Sì Ci sono Un po' rimaste Quando utilizzo I prodotti Di questo brand Penso sempre Ma come avete fatto A fare un packaging Così Cheap Da Valentino Non me l'aspettavo Comunque ragazzi Appunto blush Lo applico sempre Molto alto Ricordiamoci Che se lo applichiamo Troppo basso Abbassa Lo sguardo Lo rende stanco Rende il nostro viso Stanco E Invecchia Quindi mi raccomando Sempre Alto il blush Ne metto un po' Anche sul naso Come terra Applico sempre La hula Questa è Della mia palette Cheek stars Di benefit Rimane La mia terra Preferita La hula È incredibile Ma È sempre La terra Sempre adatta A qualsiasi occasione Si può Caricare Per un contouring Più Più marcato Magari per la sera Oppure Si può scegliere Di fare un look Super super naturale Si suona benissimo E mi piace Quella classica Opaca C'è anche La versione Glow Ma Non mi fa impazzire Sulla mia pelle mista Secondo me Il glow C'è lo naturale Quindi Evitiamolo Nei prodotti Matita sopracciglia Uso la brow Divine Di Nabla E non so Se lo sapete Ma stanno Tornando Le sopracciglia Sottili Lo so ragazzi È scioccante Questa cosa Ma stanno Piano piano Tornando Piano piano Tornando Appunto Di moda Le sopracciglia Un po' più sottili Stile Anni 90 Io penso Che siamo ancora Tutte Scioccate Dal trend Anni 90 Sopracciglia Sottili E non penso Che siamo pronti A vederlo Tornare Almeno io Non lo sono Però purtroppo O per fortuna Non lo so A seconda È così Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questa cosa Perché io Sono abbastanza Appunto Scioccata E non pensavo Potesse succedere Però Sta succedendo Ragazzi Stanno tornando Di moda Anzi sono già Di moda I jeans A vita bassa Sta tornando Di moda Tutto quello Che era Praticamente Di moda Negli anni 90 Compresa Appunto La forma Delle sopracciglia Più sottili Vorrei però Avvisare Chi Non lo sapesse Che Se andiamo A spinzettare Troppo Le sopracciglia Queste poi Non ricrescono Più Perché come Vi dico Sempre Il rasoio Non influisce Sulla velocità Di crescita E sulla forza Dello spessore Del pelo Ma la pinzetta La ceretta O qualsiasi Metodo Che vada A strappare Anche il bulbo Che sta sotto La pelle Del pelo Quello va A indebolirlo Nel lungo termine Quindi se ci Spizzettiamo Troppo una volta Non succede niente Ma state molto attenti Perché se vi Spizzettate Troppo Le fate troppo Sottili E andate avanti A fare così Per tanto 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 tempo Ad un certo punto Può essere Che non vi Ricrescano più Perché siete andati Ad indebolirle Troppo E penso che Molti Siano rimasti Un po' Scottati Da questo Negli anni 90 Perché appunto Adesso si ritrovano Con le sopracciglia Super sottili Con delle forme Che magari Non li soddisfano più E non ricrescono Proprio perché Appunto Sono andate Spizzettate Spizzettarle troppo Quindi attenzione Se volete Se volete seguire Questo trend Che sta arrivando Delle sopracciglia Più sottili Ricordate sempre Che se andate A spinzettarle O a fare La ceretta Insomma Qualsiasi metodo Che vada a togliere Anche il bulbo Da sotto La pelle Ricordatevi Che poi Appunto Quei peletti Che andate Ad indebolire Specialmente Se andate avanti A farlo Per molto Molto Tempo Non ricresceranno Più Ovvero C'è la possibilità Che non ricrescano Più Mascara Vado ad utilizzare Quello di Gucci Così vi faccio vedere Il risultato Questo è Un campioncino Perché il full size In negozio Era sold out Però Il campioncino Ha lo stesso Identico Scovolino Del full size Stessa grandezza Stesso tutto Solo che c'è Un pochino Meno Prodotto Nel Ovviamente Nel packaging Però appunto Lo scovolino È lo stesso Quindi possiamo Vedere Il risultato E questo Mascara Si chiama Mascara L'obscur Ma è L'unico Che ha Gucci Quindi non potete Sbagliare Risultato Con il mascara Gucci Ragazzi Guardate Che roba Veramente Un ottimo Ottimo Mascara Non lascia Grumi Bisogna stare attenti A non applicarne Troppo Però perché Altrimenti Si formano Però C'è Wow E poi Per le labbra Applico Questa matita Di Wicon È la Fierce Stroke In colorazione 01 Peach Sunset Non so se ho mai provato Questa matita Ma l'ho trovata Tra le mie matite E mi sembra Molto Molto bella Come colore Adesso vediamo Ed ecco qua Make up Completo Ragazzi Mi piace molto Devo dire Questa Matita labbra Un colore Molto bello Anche se non è Perfettamente coprente Però tutto sommato Mi piace Un trucco comunque leggero Oggi appunto è domenica Andiamo semplicemente A fare una passeggiata La borsetta Che porto con me Questa Ve la ricordate Quanto amo Questa borsa La uso sempre di più In primavera estate Quindi Oggi è il giorno perfetto Per Portarla A fare Un giretto Quanto adoro I colori Di questa borsa E poi Penso che porterò Comunque Il cappotto Con me Perché Adesso fa callo Ma tra un paio d'ore È freddissimo Sì Ma a Denver Parla e se ne va Così Ciao Denver Mi risponde pure Ciao Sono all'entrata Del parco Ragazzi C'è un sole Meraviglioso Sto aspettando La mia amica È già In lontananza Penso Riusciate a vederli Anche voi Dalla videocamera Gli alberi In fiore Quanto sono belli E lì appunto Si entra Nel Wester Park Sono tutti in giro Ovviamente Domenica Con questo sole C'è un sacco Di gente Che belli Sono tantissimi Ma sono molto belli Ci sono tutti i petali Che volano Tipo Francesca Ciao Ciao E siamo qua È bellissimo Ed è tipo un ristorantino all'aperto È strapieno ragazzi Ho ordinato Ho trovato il prosecco Molto felice E abbiamo ordinato anche qualcosina da mangiare Adesso aspettiamo Ed è arrivato il prosecco E la birra CIN Allora sono arrivate le mie palline fritte Che non avevo capito fossero fritte Palline fritte Di risotto Con pomodoro e mozzarella E questa è una salsetta Non ben definita Che non assaggerò E poi Francesca ha preso Un hamburger Con il formaggio all'umi E le patatine fritte E qui in Olanda Dovete sapere Che le patatine fritte Si servono Sempre e solo Con la maionese Mai con il ketchup Tipico ragazzi Guardate a casa È stata davvero una bellissima giornata Ragazzi sto morendo di caldo Cioè All'ombra faceva freddo Invece al sole Caldissimo Non si sa veramente come vestirsi Infatti mi si sta un po' Diventando lucida La faccia Tipo Volevo dire un po' sciogliendo il fondotinta Ma in realtà è ancora perfetto Però la mia bella È giusto un pochino lucida All'altro mi ha riconosciuta Anche proprio qua sotto casa Una Di voi Una follower Voglio ringraziarla tantissimo Ci siamo fatte una foto assieme Non ve lo dico Spesso Abbastanza Si vede nei video Ma mi raccomando Fermatemi sempre Se mi incontrate Mi fa super super piacere Anche se sono in compagnia Sto con qualcun altro Vi prego Fermatevi Perché per me Conoscere Chi mi ha dato l'opportunità Di fare il lavoro che amo Di avere la vita che ho E che mi dà tanto affetto Per me è oro Capito? Cioè Potervi incontrare Ringraziarvi Abbracciarvi Per me È una cosa Rara È oro Per me Quindi veramente Fatelo In Italia Mi succedeva molto più spesso Rispetto qua in Olanda Quindi se L'ho fatto qua Sono ancora più felice Perché mi capita di meno Quindi ragazzi Adesso Bevo un po' d'acqua Perché dopo due bicchieri Di prosecco Mi gira un pochino La testa Ho bisogno di qualcosa Che non contenga alcol E poi Vorrei fare Il semi permanente Con voi Con dei nuovi smalti Che ho scoperto E voglio farvi scoprire Il brand è questo Si chiama Manucurist Io non lo so pronunciare Perché andrebbe pronunciato Alla francese Perché è un brand parigino E io il francese Non lo so Quindi Sì Però questo è il nome del brand Io speravo Mi avessero mandato Qualche colore in più Ma purtroppo Mi sono arrivati Soltanto Due nude Che alla fine È il colore Che io preferisco Però speravo Di poter Giocare un po' Con qualche colore Un po' più primaverile Invece ho soltanto Due nude Che però sono fantastici E molto simili Specialmente questo Ha il colore Della mia pelle Quindi perfetti per me E poi però Mi hanno spedito Questo Che vorrei troppo provare Perché stanno tornando Tantissimo I glitter Non solo Li avrete visti Ovunque Sulle labbra Ma anche sulle unghie E mi hanno spedito Anche questo Che è un Tipo un top coat Tutto glitterato E visto che ho L'acrilico sotto Che però è già Un po' cresciuto Volevo un po' camuffare Applicandoci Appunto Un nude E poi questo Sopra Li ho provati Sulle unghie Quando non avevo L'acrilico Ma non li ho provati Sull'acrilico Quindi facciamo Assieme Questo esperimento Dovete anche sapere Cosa molto importante Che questo È un brand 100% green Quindi tutti i prodotti Manucurist Aiutatemi a pronunciarlo Sono 100% Cruelty free E vegani Ok Gli step Li conoscete Inizieremo naturalmente Con il base coat E poi andrò ad applicare Una o forse Due passate Dello smalto colorato Vediamo Perché appunto Ho già L'acrilico sotto E poi Una passata Di Questo smalto Glitterato E poi Per finire Naturalmente Il top coat Ok Ho applicato Base coat E una passata Di questo Bellissimo Nude Che si chiama Shell beige Mi piaceva moltissimo Anche L'altro Questo è Old rose Però questo Era un pochino Più scuro Quindi appunto Ho scelto Questo colore Più chiaro Che tra l'altro È anche Praticamente Uguale Comunque molto simile A quello Dell'acrilico E adesso Andiamo ad applicarci Sopra quest'altro Sempre della Linea smalti Green flash Questo si chiama Diamant Bellissimo Infatti È super Super scintillante Super sparkly A base trasparente Quindi si vedrà Il nude Sotto Però ci saranno Tutti questi Glitterini Quindi vado a fare Un'altra passata Di questo E poi top coat Devo dire È uscito Molto molto carino Cioè Rimane un nude Quindi un colore Comunque molto elegante Però Ci sono Appunto Questi riflessi Con tutti questi Glitterini Molto molto bello Mi piace un sacco Adesso applichiamo Anche il top coat E abbiamo finito Poi faccio L'altra mano Risultato finale Ragazzi Le mie mani Sembrano rossissime In videocamera Ma dal vivo Vi assicuro Che non lo sono E Questo è Il colore Eccolo Più da vicino Così Vedete bene Quanto È Sparkly Visto che Spesso mi dite Che quando togliete Il semi permanente A casa Fate sempre Difficoltà Perché non riuscite A toglierlo Volevo farvi Vedere anche Come sia semplice In realtà Togliere questo Di Manucurist Lo toglierò Giusto su un'unghia Poi lo rifaccio Appunto Per farvi vedere Utilizzerò Il solvente Del brand Che è Senza acetone Basta Intingere Un dischetto Di cotone Con il remover E poi andare Ad appoggiarlo Sul dito E tenere così Per 30 secondi Ok Sono passati 30 secondi E come potete Vedere Si toglie Subito E rimane Poi sotto Il mio acrilico Ecco così Vedete più da vicino Che si è tolto Completamente Veramente in 30 secondi Quindi questo Da togliere Garantito È semplicissimo È arrivata La cenetta Nel frattempo Ho ordinato Una Pokè Mi stanno piacendo Tantissimo Ultimamente Ne mangio A quintali Oggi ho preso Allora Questa è Con riso Normale Perché a volte Prendo Quella con la quinoa E stavolta ho preso Riso Edamame Salmone Mais Avocado Sesamo E questi Tipo È un'alga Crispy Buonissima E ho preso L'allarge Come al solito E poi vabbè Ho ordinato Anche un piccolo Una piccola Spremuta D'arancia Buon appetit Ragazzi Con Gatto Denver Dietro che fa la nanna Io adesso Mia family Mi mangio La mia pocket Cerco qualcosa Da vedere Su Netflix Anche se Non ho più niente Da vedere Finito Inventing E mi è piaciuto Molto Quindi se avete consigli Per Netflix Per favore Lasciatemi Nei commenti La mia Videocamera Sta per spegnersi Perché la batteria È super scarica Quindi Mando Un bacio grandissimo E noi ci vediamo Nel prossimo video Ah no Prima l'abbraccio L'abbraccio Non vi devo dimenticare Venite qua che vi abbraccio Forte 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 E adesso posso salutarvi Baccio grande Ciao Ciao